Il momento è finalmente giunto, Diablo 3 Ripper of Souls è disponibile al pubblico. Un'attesa nemmeno troppo lunga se consideriamo i tempi biblici di Blizzard. Non è la prima volta che mettiamo le mani sulla donna della software house californiana. Le impressioni raccolte durante quella prima prova furono positive, confermate da un inedito atto di gioco e dalla nuova classe, il crociato. Ora siamo al cospetto del codice completo, corroborato da importanti aggiornamenti circa il sistema di loot e il paragon system. Deve essere nascosta persino agli angeli. Maltael, arcangelo della saggezza e fratello di Tyral, è stato corrotto dalle forze del male. Nei panni dell'angelo della morte, la creatura del mondo angelico è riuscita a mettere le mani sulla pietra nera delle anime, con l'intento di sterminare non solo i demoni, ma anche l'intera razza umana. Toccherà a noi, vestendo nuovamente i panni del Nephilim, affrontare la nuova minaccia prima che sia troppo tardi. Ci troviamo di fronte ad un quinto atto ben confezionato, ricco di caratterizzazione e denso di eventi ed azioni, che però si rivela eccessivamente corto per la storia che cerca di raccontare. Il risultato è una narrazione piena di spunti interessanti, che tuttavia non viene sviluppata come avremmo desiderato. Le mappe sono ampie e molto ben disegnate, con qualche novità che farà la gioia dei giocatori amanti delle sfide. Ai classici zombie, scheletri e demoni si aggiungono alle fila nemiche inediti mostri e demonietti, così da diversificare la nuova esperienza ludica. Le ambientazioni sono pregne di dettagli e la qualità grafica è quella che già conosciamo. Le side mission sono numerose e ben implementate, capaci di rendere il gioco vario e divertente. La longevità del quinto atto si attesta intorno alle 4 ore, variando a seconda dell'approccio e del livello di difficoltà selezionato. A questo si aggiunge un discreto fattore rigiocabilità, unito alla modalità avventura e all'incremento del level cap, che passa da 60 a 70. Magistrale è il doppiaggio, così come l'accompagnamento sonoro. Assieme al quinto atto della campagna, il crociato è senza dubbio la più importante novità di questa espansione. Trattasi di un indomito guerriero votato al combattimento in mischia, che trae forza e vigore dalla connessione spirituale con la sua divinità, Zaccarum. All'interno del contesto narrativo di Diablo, il crociato ricopre una posizione di privilegio all'interno del corpo dei paladini, in qualità di Elite Force degli stessi. Veste di una pesante armatura che lo rende molto resistente ai colpi inferti dai nemici, tanto da permettergli di gettarsi nella bolgia del combattimento senza temere di essere soverchiato dalle forze del male. Lo strumento che lo caratterizza è lo scudo con il quale colpisce e respinge i nemici, al quale affianca un'arma ad una mano scelta dal giocatore. Nonostante i piccoli miglioramenti apportati alla classe dall'ultima volta che ci abbiamo messo le mani sopra, il crociato resta una delle classi più forti e resistenti del gioco. In qualità di combattente in mischia è particolarmente adatto al giocatore alle prime armi, mentre le abilità attive e passive dei livelli avanzati ne fanno un'ottima scelta per il giocatore esperto. Eppure, tra gli aggiornamenti più interessanti giunti con Reaper of Souls ci sono senza dubbio il nuovo sistema di loot e il Paragon System 2.0. Il primo è stato rivisto in occasione dell'abolizione della casa d'aste. In ultimo arriva l'Adventure Mode, che permette a un gruppo di esplorare liberamente la mappa di gioco, completando incarichi speciali e farmando a più non posso. La nuova modalità si rivela un ottimo passatempo, sebbene non offra del vero contenuto di gioco alternativo, ma solo un diverso approccio con interessanti ricompense in premio. Da non dimenticare anche i varchi del Nephilim, che in maniera simile a quanto avviene con i dungeon in alcuni MMO, mettono sul piatto sfide casuali con ricche vincite al seguito. Pur privo della componente massiva, il titolo di Blizzard assume una deriva ancora più vicina ai grandi RPG online. Grazie all'ottimo bilanciamento dei drop, al nuovo sistema di loot, alla forgia del mistico e ad una modalità avventura che arricchisce il tutto. La qualità del rinnovato sistema di combattimento è ottima, corroborata dalla meticolosa ottimizzazione tipica di Blizzard, che ormai conosciamo fin troppo bene. Volgendo uno sguardo al passato tuttavia, in particolare a Diablo II e Lord of Destruction, non possiamo che rimuginare sulle longevità del titolo, sia a causa di un atto fin troppo rapido, sia per la presenza di una sola classe.